Musica Amici creativi, ciao! Benvenuti in un nuovo video, io sono Lilla Il video di oggi ha come protagonista la resina, o meglio la resina natalizia è un video in collaborazione con ResinPro a cui ho chiesto se potevo appunto collaborare con loro ma adesso basta parlare e vi faccio vedere i miei acquisti, sono due pacchi e tra l'altro mi è arrivato in questo deliziosissimo pacco già natalizio Uh, vedo già dei pacchi sorpresa Allora, questo è il primo pacco che ti voglio fare vedere Qui c'è scritto, consegna in 24-48 ore, a me è arrivato in 24 ore, nonostante la pioggia Vado ad aprire questo che è l'Epic Christmas Kit XL, quindi extra large Sono molto curiosa perché io più o meno so cosa c'è dentro perché l'ho scelto però alcune cose sono random Wow, allora abbiamo questo che è il pacco, praticamente il dono che ricevono le persone che fanno appunto acquisto di questo kit Questo kit è bellissimo perché una volta comprato questo dentro hai già tutto, non devi fare null'altro Abbiamo tre confezioni da 10 dei glitter galaxy che sono bellissimi I colori sono casuali, in questo caso ci hanno proprio azzeccato perché il bianco serve troppo a Natale il verde, che ve lo dico a fare, tra l'altro è uno dei miei colori preferiti E poi c'è questo viola, quindi per me è lilla, questi fanno un effetto pazzesco Poi siccome questa confezione, questo kit è dedicato agli amanti dell'UV, c'è appunto questo UV Creation Crea Non Stop, sono 60 ml, io l'ho finito tipo l'altro ieri il mio Se controllate quando sono andata a comprare l'altro ci avrò messo qualche mese Perché questo da 60 dura veramente tantissimo ed è trasparente Sempre all'interno del kit troviamo la lampada perché l'UV potete lasciarla al sole Però adesso che è dicembre, penso che ci mettereste un anno per asciugare una creazione Oppure potete usare la lampada e loro ve la mettono dentro È potentissima, io ne ho una uguale, identica, sempre della Resin Pro E asciuga tipo in due minuti, c'è anche scritto nelle istruzioni ma è... ed è veritiero Ragazzi, la parte che mi piace di più... cose di Natale Andiamo ad aprire insieme i bezel Allora, i bezel sono perfetti per la resina Per la resina UV ancora di più perché ci mettete un attimo a finirli Wow, no, avete un sacco di cose natalizie No, 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 bellissimo Allora, Renna, adoro, aspettate che ve li apro Eccoli qui, guardate come sono sbrilluccicanti Sono color oro, abbiamo la renna Casetta di marzapane e abete Albero di Natale, agrifoglio, la calza dei doni Le campane a festa Poi abbiamo due palline, guardate, non so se si nota ma sono concave Quindi diventerà veramente effetto pallina Poi abbiamo l'ultimo che è una candela Ed era esattamente tra l'altro quello che cercavo perché ho un'idea e sono perfette Ma non finisce mica qui perché ci sono anche gli stampini In questo kit, nel Christmas kit, ovviamente c'è una valangata di fiocchi di neve Abbiamo 5 formine dentro questo kit, super super morbide Cosa ancora più importante è che il kit, che lo stampo, scusate, è chiaro Quindi la resina UV riusciamo ad asciugarla bene Qui abbiamo ben 4 pacchi dono, quindi formina del pacchi dono Qui abbiamo tutto il mondo natalizio Allora abbiamo Per toglierlo dopo lo pulisco Abbiamo una mini stellina Pupazzo di neve, campane, calzetta, abete che sembra bellissimo L'agrifoglio Guarda Passiamo ai 3 che mi piacciono di più in assoluto Che ovviamente sono i due fiocchi di neve E tra l'altro questo ha anche la formina per agganciarlo Quindi potete fare un sacco di delicatissimi fiocchi di neve E agganciarli all'albero, alla porta, alle finestre E qui invece pupazzo di neve Per cui io ho un mega super debole E qui c'è un mini pupazzetto di neve Vado ad aprire quello che è in più È il regalo Il kit costa 24,90 euro Però potete usare il mio codice sconto Che vi permetterà quando andate alla cassa Infilando lì la 19 di ottenere il 10% Quindi vi toglieranno il 10% da questa cifra Ma non solo da questa cifra, da tutto quello che comprerete Quindi potete comprare anche solamente, non so Vi saranno i glitter, eccetera Ah ma, ah ma, ah ma, cosa c'è? Cosa c'è qua dentro? Tutti hanno il, diciamo, il di più No Wow Non ci posso credere Fiorellini secchi Questi sono fantastici E tra l'altro ne avevo bisogno Ed userò sicuramente Bellissimo regalo, mi piace È un panetto di Fimo Professional Questo è un segno regalo Perché è un panetto da 350 Quindi non è quello piccolino È proprio quello bello grosso Da usare per fare modellismo, eccetera, eccetera Bellissimo Ma adesso se questo vi è sembrato spettacolare come pacco Dovete assolutamente guardare lo starter kit natalizio Perché è veramente pazzesco Adesso sposto il set con la lampada e l'UV Cioè tutto quello che vi serve per creare con l'UV Perché vi voglio fare vedere un altro set disponibile Sempre natalizio Vale sempre il 10% Con il codice LILLA19 Ovviamente non solo su questo Ma su tutte le cose Che comprerete sul negozio Ma è un kit completamente diverso È un kit pensato per chi non ha una seppia in casa Quindi non ha più resina Non ha accessori, eccetera Perché qua c'è veramente tutto Infatti si chiama starter Chi deve cominciare Tuttavia sono tutte cose pro Quindi da professionisti Quindi credo che sia stato pensato proprio per accontentare tutti Allora la scatolina è così Io ho dato un piccolo taglio Ma la devo vedere con voi C'è scritto che qua dentro ci sono prodotti per il bricolage Il fai da te e per le cose creative Quindi mi piace molto È molto bella anche la scatola Vediamo un po' cosa Ah ho capito Allora sempre natalizio Quindi abbiamo Omino di neve Poi immagino qui i pacchetti natalizi Quindi praticamente anche in questo set Abbiamo le formine per fare ciondoli Guardate Sono... Ah ok Sono cinque anche in questo caso Non ve li faccio vedere Sono identici a quelli che vi ho fatto vedere poc'anzi E sono cinque E poi abbiamo Cinque meravigliosi glitter Anche in questo caso sono casuali Però guarda quanto sono belli Il galaxy verde intenso Verde foresta Un altro lilla Anzi in realtà è viola Turchese direi Bellissimo Questo è veramente stupendo Tutta la palette dei colori che amo Questo che è un verde più brillante Questo è proprio verde natale E poi il rosa Guarda che belle Differenza Questo set ha la resina Quella trasparente Sono ben 800 grammi Quindi per fare le creazioni di Natale Secondo me ci siamo In più c'è il paio di guanti neri Che servono sempre Ma Emozionissima Dentro questo kit C'è anche la gomma in pasta Che cos'è? Per chi non lo sapesse Aiuto glitter Fatti silenzio Allora Per chi non lo sapesse Praticamente è il modo Per poter fare Gli stampi Di quello che vi piace da soli Vi faccio un esempio Vi piace questa casetta? La volete per sempre? Facilissimo Voi prendete un po' di questo Che è la Un po' di B Lo unite insieme E andate a formare una pallotta Dove andrete ad inserire il vostro oggetto Quello farà da calco Quindi avrete lo stampino Un po' come questi Se ordinate questo pacco Ovviamente c'è il pacco regalo Non so che cosa ci sia qua dentro Perché sono a caso Praticamente Comunque in questo sito Ci sono tantissime altre cose di Natale Oltre ai kit Questi sono molto utili Perché in una botta sola Potete prendere tutto quello che vi serve E non solo Potreste anche pensare di farlo A qualche amico creativo Li mandate il kit Pensano tutto loro E tutto se è visto C'è acqua dentro E spunta anche il Fimo Pro Che bello Che bel colore Vinaccio Sì Bellissimo Allora Di nuovo abbiamo un panetto Questa volta Di un altro colore 350 grammi E poi Non mi dire che sono i Sahara Sì Questi ragazzi sono dei pigmenti Favolosi Sul mio Instagram Lo stavo utilizzando Qualche giorno fa Tra l'altro questi sono due colori Che io non ho Sono due verdi Diversi Spero che si possa vedere Le confezioni sono i Sahara Anche questi Si possono comunque trovare Sul sito sciolti Poi Questi Che so Che non è ro Che non è bianco Sì Sì È come quello che ho trovato Nel set iniziale Questi servono sempre a Natale E finalmente Lilla E voi mi direte L'hai già avuto No È diverso Questi ragazzi Sono fenomenali Sapete che c'è Mi ho fatto vedere tutto Adesso facciamo una creazione Qui Quando è questo set Hai veramente L'imbarazzo della scelta Ho trovato il regalo L'amica Quindi userò Un colorante Poi i glitter Di ordinanza Del kit E voglio provare a fare Un pacchettino Con La resina UV Uso il galaxy Tolgo il coperchetto Perché mi servono Anche quelle belle grosse Pucciatina Di resina Ma proprio Un velo A questo punto Metto In quantità A piacere I miei glitter Poi avendo cura Ovviamente Di aver coperto Il vostro tavolo Da lavoro Metto Un po' Di resina Tanto da coprire Finalmente Tutta La mia formina Dovrebbe bastare E poi Vado ad impastare Con il colore Prescelto In questo caso Sarà questo bel verde Ne Uff Ne basta poco Stavo per dire Qui ne ho buttato Una caterva Questo è da 10 Vi dura Tipo per sempre Guardate quanto Colora Tantissimo Ora Semplicemente Andate a raccogliere Il colore E lo Ricolate Qua dentro Fate così Finché non Riempirete Il vostro Pacco regalo Una volta Che siete pronti E ho ne fatto uno Un po' più chiaro Insomma Con meno colorante Fate asciugare Il tutto Per Un paio di minuti A testa Poi Proveremo A sformare Le nostre Creazioni Dopo aver passato Per un paio di minuti La lampada Vedete Si è decisamente Solidificato Adesso andiamo a vedere Se oltre a solidificarsi Wow È venuto fuori Un pacchetto Carinissimo Qui ho messo I glitter Quelli più chiari Sopra Nel fioc E poi Ho usato Un verde Ovviamente L'effetto è tutto Molto delicato Potreste pensare Di fare una cosa Tipo più A contrasto Ovviamente Solamente provando Potrete capire Cosa fare Cosa è giusto Cosa è meglio Questo è molto carino Pacchettino Di nuovo Con un fiocco Molto più scuro Ecco Forse così si vedono Molto meglio Ne ho preparato un'altra Con la stessa tecnica Ero troppo curiosa Cosa è uscito Allora Allora Qui togliamo Vabbè Dopo si rifilano Con le forbici Wow No Ma è super scintillante Allora Allora Io ho semplicemente Evidenziato Il suo cappellino Ma ragazzi È pieno di dettagli Ed è veramente Mettete fuoco È veramente scintillante Ci sono addirittura I guantini È veramente Fatto benissimo Questa luce Incredibile È data fondamentalmente Dai glitter Che veramente Vi straconsiglio Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi abbia divertito Possa essere utile Se avete bisogno Di qualche idea Regalo per i vostri amici creativi Questi sono set fantastici Oppure avete voglia Di cominciare Però non sapete Cosa andare a pescare Nel sito Vi prendete un kit Ed è bella che è fatta Per il resto Questo kit Lo vedrete utilizzato Su questo canale Su dei tutorial di Natale Se avete delle idee E volete Magari approfondire Scrivitemi Un commento qua sotto Ringrazio Resinpro Che è stata super gentile Farmi collaborare Con loro Ci vediamo Alla prossima Ciao